Io voglio i bilanci partecipati, così i cittadini possono decidere per il proprio territorio. E tu? Io voglio i corsi di formazione per specializzare i dipendenti comunali, in modo da non spendere più 800.000 euro l'anno di consulenza esterna. E tu? Io voglio che i soldi che si risparmieranno vengano utilizzati per l'educazione, alla legalità, contro la camorra, che è il vero e proprio tumore del nostro territorio. E che vengano dati alle famiglie meno ambienti, perché possano dare un futuro migliore ai propri figli. E tu? Insomma, noi vogliamo un'altra casoria. E voi? Ed ora passiamo alla parte spettacolo del comizio. È un'artista che con la sua intelligenza e spirito critico ci ha fatto sempre riflettere sulla condizione della donna lavoratrice. E tutto ciò facendoci sorridere. È una grande donna, una grande attrice, ed è anche dichiaratoria. Signori, applaudiamo Rosalia Porcaro!